Grazie Presidente. Grazie Presidente. Chiamo la messa a disposizione di strumenti che consentano un clima meno ostile all'attività di queste realtà. Il secondo punto che io credo noi dobbiamo evidenziare è quello di aiutare le PMI in quello che oggi è il fattore più critico per loro, cioè l'accesso al credito, l'accesso e la disponibilità. Non bastano i fondi messi a disposizione con l'ABEI, dobbiamo assolutamente dire, lo diremo domani, che vogliamo fare di più per dare credito alle piccole e medie imprese.